La Polizia di Stato ha denunciato il rumeno di 39 anni per ricettazione e detenzione illegale di munizioni. Sabato mattina, considerate le attività investigative condotte dagli uomini del commissariato di Modica, in ordine ad alcuni furti consumati nel loro territorio ed in particolare quelli perpetrati la notte, prima ai danni di una struttura ricettiva che ospitava diversi turisti stranieri, venivano pianificate alcune perquisizioni a carico di soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio. La squadra mobile di Ragusa ed i commissariati di Modica e Vittoria, con l'ausilio del reparto volo di Palermo in servizio sull'area di Ragusa, per controlli del territorio lungo e litorale, sin dalle ore 5 del mattino, hanno dato inizio ad una serie di perquisizioni in territorio di Modica e Vittoria, dove alcuni indizi sembravano guidare gli investigatori. Tra le altre attività, quella condotta a carico del rumeno ha dato esito positivo, di fatti all'interno di un'abitazione di campagna, sono stati rinvenuti oggetti di provenienza furtiva del valore complessivo di circa 30.000 euro. Tra le decine di oggetti rinvenuti vi sono televisione, casse acustiche, tagliaerba, soffiatori, compressore autoradio, coltelli da macellaio, ganci, appendi animali, oggetti in oro, banconote di valuta estera, macchine da cucire, elettrodomestici da cucina di vario tipo, computer portatile di diverse marche, telefono cellulare ed altri oggetti. Oltre alla refurtiva, il cittadino rumeno deteneva illegalmente anche munizioni e per questo dovrà rispondere di un altro reato. Grazie alla sinergia tra i diversi uffici operativi della Polizia di Stato operanti su più territori, è stato possibile raggiungere un importante risultato, ovvero quello di restituire numerosi oggetti rubati alle vittime. Già dopo un paio di ore dal furto e dall'immediato rinvenimento, sono state contattate le vittime di un B&B ed alcune famiglie di Modica e Chiaramonte e Golfi. Per i turisti si è trattato di una triste avventura conclusa sia a lieto fine, in quanto sono rientrati in possesso del maltolto, riuscendo a partire in tempo per prendere l'aereo che le avrebbe poi riportate a casa. La Polizia rende noto che per chiunque avesse subito un furto e vuole sapere se la refurtiva è stata recuperata dalle forze dell'ordine, è possibile regarsi presso gli uffici di via Lizio a Ragusa o contattare la squadra mobile dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0932 67 36 96. Grazie a tutti.